In seguito all'ennesimo comunicato stampa dell'On. Di Pasquale segue la solita coda di polemiche. Lo scontro a muso duro torna a essere tra il deputato del PD a Lars e il primo cittadino modicano che ancora una volta torna in intervenire nella vicenda. L'On. Nello Di Pasquale ha infatti ieri diffuso la proiezione dei fondi che si sarebbero resi disponibili per i vari comuni Iblei se fosse passato il suo emendamento sulla ridistribuzione delle royalty in base alla produzione petrolifera del 2015. Si tratta di circa 28 milioni di euro di cui ben 24 sarebbero rimasti a Ragusa mentre circa 4 milioni di euro sarebbero stati in quota parte distribuiti nei vari comuni Iblei non sedi di estrazione petrolifera. Secondo Di Pasquale si trattava di risorse non risolutive ma aggiuntive che i comuni non avrebbero rifiutato in questo momento di crisi per le proprie casse. In ogni caso il comune di Ragusa sarebbe stato tutelato ricevendo la maggior parte dei fondi con la possibilità di rifinanziare la legge su Iblea per 5 milioni di euro. Secondo la proiezione ottenuta dalla distribuzione delle royalty ripartiti in base alla popolazione Vittoria avrebbe ricevuto un milione di euro Modica 880 mila, Comiso 480 mila, Scicli 440 mila, Pozzallo 320 mila, Ispica 260 mila, Acate 170 mila, Santa Croce 170 mila, Chiaramonte Gulfi 130 mila, Gerratana, Lico di Oubea e Monterosso 50 mila euro. Soldi ora persi per tutti questi comuni. Di Pasquale punta il dito pesantemente contro i grillini e i franchi tiratori del suo stesso partito che hanno portato alla bocciatura dell'emendamento. Poi Di Pasquale replica al sindaco di Modica, Ignazio Abate, che è intervenuto sulla questione, asserendo che ora ci avrebbe pensato lui a risolvere la situazione. Di Pasquale lo accusa di arroganza e di fare sempre la solita campagna elettorale. Anche il PT di Modica interviene sulla vicenda, sottolineando le stesse argomentazioni di Di Pasquale contro Abate, chiedendo al sindaco di pensare al caos di Modica prima di quello di Palermo. Sulla questione delle royalties interviene oggi anche Adesso Modica, con il capogruppo Claudio Gugliotta e il presidente di lista Mommo Carpentieri. A prescindere dalla paternità di chi ha proposto l'emendamento a Lars sulla suddivisione delle royalties petrolifere del 30% sui territori Iblei, ci sembra doveroso sottolineare, dicono i rappresentanti di Adesso Modica, come il finanziamento di 880 mila euro che ne sarebbe derivato avrebbe dato un respiro di sollievo alla città di Modica. A fronte di circa 28 milioni di euro, che sono il tesoretto rappresentato dalle royalties che fa gola a tanti, a Ragusa sarebbero rimasti ben 24 milioni di euro, mentre i restanti 4 milioni sarebbero stati ridistribuiti ai comuni Iblei, tra cui Modica, con quasi 900 mila euro. Una cifra irrisoria rispetto al fondo ragusano, che avrebbe però rappresentato per Modica, così come per altri comuni interessati, un sollievo in termini finanziari, soprattutto per ambiti d'azione come l'ambiente, e la tutela della salute, che difficilmente i comuni hanno la forza di mettere in atto. La guerra tra il PD e il Movimento 5 Stelle ha causato la bocciatura di un emendamento quanto mai lecito, e l'inutile vittoria di Pirro, del comune ragusano, che a discapito di tutti gli altri comuni si tiene tutto il tesoretto. Anche a Modica la politica alterna umori ballerini e rivendicazioni quanto mai obsolete, che odorano più che altro di campagna elettorale imperante, come si legge nella nota. Adesso Modica auspica che in futuro una situazione del genere non si verifichi più, e al di là delle appartenenze politiche e dei ruoli istituzionali di sindaci e parlamentari, si lavori in sinergia per lo sviluppo dei territori iblei, e in particolare di Modica, che insieme a Vittoria perde il finanziamento più cospicuo. Grazie a tutti.